Conosci il fudge? È un dolce golosissimo tipico dell'America e della Gran Bretagna. Scopri la ricetta insieme a me. Inizio tritando il cioccolato fondente. Aggiungo il latte condensato nel cioccolato fondente. Unisco anche l'estratto di vaniglia, oppure se non avete l'estratto potete usare i semini interni di una bacca. E adesso portiamo tutto in microonde. Ho scaldato gli ingredienti a 600 watt per un minuto, più volte, finché non comincio a vedere che il cioccolato si fonde. Ora mischio tutto fino a che il cioccolato non è completamente fuso. Ecco il nostro composto pronto. Come vedi è molto viscoso. E adesso vado a versarlo dentro a questo stampo quadrato. Come vedi non ha il fondo, infatti lo appoggio su una teglia. Ho imburrato i lati in modo che la carta forno aderisca perfettamente. Adesso ci versiamo dentro il nostro composto. Lo vado a livellare. Mi raccomando, bene negli angoli. E adesso lo mettiamo in frigorifero a rassodare. Vedi, per ottenere questa consistenza deve stare in frigorifero almeno un paio d'ore. Se lo fai la sera e lo lasci tutta la notte è ancora meglio. Questa ricetta è un modo molto semplice per ottenere un faggio. I faggio sono dolcetti di diversi gusti, dal caramello salato al cioccolato bianco. Per quanto riguarda il cioccolato fondente, puoi arricchirlo aggiungendo della frutta secca o della frutta disidratata. Ecco i miei strepitosi faggio al cioccolato, velocissimi da fare, perfetti da regalare. Per quanto riguarda il cioccolato, velocissimi da fare, perfetti da regalare.